Se avete avuto modo di sentire un po' Paolo, il quale hai detto sempre di essere ispirato, e gli altri direttori, in particolar modo, Baglioni, Conti e Fazio, che hanno un po' avviato questo percorso di spezzamento del pressa, di cui hanno tornato a dire no? Allora, per quanto riguarda Baglioni, Conti e Fazio, hanno dato dei messaggi, in maniera particolare, devo dire, ovviamente un rapporto da tanti anni, sia con Carlo che con Fabio, e quindi, devo dire, mi hanno mandato messaggi, ci siamo anche sentiti telefonicamente, mi hanno dato messaggi bellissimi, quasi ogni giorno, praticamente, durante la settimana. Pippo, sì, ci siamo sentiti prima, avrei voluto avere un'altra festa che sarebbe Pippo Baudo, purtroppo sono un piccolo problema alla schiena, di salute, niente di preoccupante, però è chiaro che affrontare un viaggio così lungo, ma Pippo lo sento spesso, è stata, devo dire, anche la prima persona che ho sentito, perché l'avrei voluto, saremmo giovane, come ricorderai. Sì, Pippo, insomma, è una persona a quale tutti noi siamo legati. Sì, Pippo, insomma, è una persona a quale tutti noi siamo legati,